Una manovra dalla grande coordinazione, qui il solista va ad azionare tutti i comandi in maniera estremamente coordinata per far sì che il velivolo in questa lenta rotazione non perda assolutamente quota. La formazione intanto rientra, ormai già trasformata a cigno. In questa la ritengo una delle manovre più evidente della battaglia globalica nazionale. Abbiamo i velivoli 4, 5, 7, 8 che sono in fondo e volano in ala al 9 e hanno grandi difficoltà di manovrabilità in questa situazione perché sono molto distanti da chi conduce, quindi dal numero 1 ed è una manovra dove dopo la lona si sta più distanti appunto dal velivolo leader. Qui Snyder negativa del numero 10, meno 3G. Anche questa manovra sollecita notevolmente sia l'aloplano sia il nostro solista. Effettamente eseguita, il Maggiore Salvatore si va a predisporre per fare l'inserimento dell'Arizona. Prossima manovra, Arizona e Scampanata. Esattamente. Qui vediamo tutti i velivoli andare in linea di fronte, quindi c'è un'estremizzazione di quello che poco fa ho descritto. Infatti tutti i velivoli vanno in questa posizione estremamente scomoda perché l'aloplano viene pilotato con la testa esattamente a 90 gradi le parte degregari e si perde i riferimenti dell'orizzonte dinanzi a sé. Qui ricongiungimento della formazione, tutti vanno a stringere, si riassume la formazione a rompo per poi aprirsi in questo grande abbraccio e il numero 10 si inserisce all'interno di questa magnifica apertura. Invece adesso ci delizierà con una scampanata, lascerà che il suo velivolo perda l'energia fino a fermarsi e arrestarsi nel cielo, ricadendo esattamente all'interno del palazzo. Attenzione, prepariamoci ad assistere a una delle manovre più spettacolari del programma acrobatica, la scintilla tricolore che è nata nel 2015 oltre all'Omcevac. Sì, ho avuto la fortuna nel 2015, era l'anno del mio esordio, di partecipare a tutta la realizzazione della manovra, vedere come viene studiata una manovra nuova, come si analizzano le criticità che ovviamente vanno studiate e analizzate prima di permettere a tutta la formazione di poterla eseguire. Quindi si inizia con uno studio basato su due soli aeroplani che provano la manovra inizialmente e man mano che si vede la manovra diventare sempre più sicura, avere più consapevolezza di questa manovra, si iniziano ad aggiungere direttamente gli altri elementi della formazione. Intanto il 10 è appena scampanato portando il suo pericolo a velocità zero. Libera adesso il campo al rientro della battuglia, per la scintilla che andremo ad ammirare in tutta la sua bellezza e l'esposibilità. Ecco, tra l'altro la battuglia acrobatica nazionale italiana è l'unica a eseguire la scintilla. Esattamente. Una cosa che non tutti conoscono della scintilla è che in realtà la parte più complessa di questa manovra è il ricongiungimento. Infatti c'è una separazione totale di tutti gli elementi, abbiamo nove elementi che si disperdono nello spazio aereo e dovranno poi ricongiungere. Il problema è che per ricongiungere, una volta aperta la scintilla, i gregali di destra si trovano a sinistra, i gregali di sinistra si trovano a destra. Quindi nel ricongiungimento bisogna risolvere un doppio problema, che è quello di ricongiungere inizialmente le due sezioni, ma prima di far ciò è necessario che tutti i veniboli possano attraversare le linee di volo degli altri in sicurezza per portarsi nella condizione attimale, quindi sinistra a sinistra ed ex a destra. Prima di andare a vedere il doppio tonno e il piramidone, la domanda maggiore è questa, perché le altre pattuglie acrobatiche non riescono a eseguire determinate difficoltà delle trecce tricolori? È un problema di pericolo o di abilità del pilota? Allora, non è un problema di abilità, ma è un problema di conoscenza e statistica sulla manovra. Noi abbiamo manovre che ci sono state tramandate da 60 anni, e molte manovre come la bomba e altre, in realtà risalgono a tempi ancora precedenti, venivano volate dalle pattuglie itineranti, perché prima il compito di pattuglia veniva attribuita a vari gruppi volo in maniera rotazionale, c'erano i getti tonanti, i diavoli rossi, i lanceri neri, e queste pattuglie avevano e creavano già delle proprie manovre che oggi noi ammiriamo in questo programma delle frecce, e quindi noi abbiamo un bagaglio storico di nozioni di sicurezza, di cose da non fare durante queste manovre che ci permettono di eseguirle con una sicurezza che gli altri ovviamente non hanno. Tra l'altro ricordiamo che tutti i ricontentimenti della pattuglia sono a vista pubblica. Sì, questa è un'altra caratteristica della nostra pattuglia, che vediamo in doppio, uno scavalcamento uscito su misura intorno all'altro aeroplano, e poi si va su per il piramidolo. Tutti i ricongiungimenti sono a vista proprio perché la pattuglia è in grado di ricongiungere senza commettere errori, normalmente le altre pattuglie invece, la fase di ricongiungimento che viene ovviamente percepita come una fase critica, cercano di effettuarla lontano dalla vista del pubblico, perché le sbavature ovviamente possono accadere con facilità. Qui vediamo il piramidone, questa formazione è propedeutica per l'apertura, qui vedremo i velivoli aprirsi a 360 gradi, con il numero 10 che va su e va praticamente a tagliare quelle che sono le traiettorie di apertura di tutti i velivoli. Se la interrompo e mi ripeto anche, ma anche questa apertura è unica del suo genere, anche questa manovra non è ripetuta da nessun'altra pattuglia. Esattamente, la bomba è una manovra che se la si vuole ammirare bisogna guardare per forza il programma delle frecce di colonna, non è ammirabile da nessun'altra, diciamo, guardando nessun'altra pattuglia. Quindi, qui abbiamo la classica inversione della bomba che porta adesso tutti i velivoli a convergere in un unico punto e la separazione è garantita soltanto da tre livelli di quota e qui i piloti devono gestire sia i tipisti dell'incrocio sia la separazione ventricale minima con gli altri velivoli. Ed è una cosa che io ogni volta che la guardo ancora oggi mi emoziona da morire come se fosse la prima volta per me. Veramente, è una cosa che ha veramente del prodigioso, un incrocio bellissimo e anche questo ricongiuggimento dove i velivoli che erano fino a un attimo fa velivoli singoli si ricongiungono rapidamente in sezione e con due semi in looping riescono a ricongiungere. Una magia che solo le frecce di colori sono in grado di regalarci. E questo precede lo Schneider a destra e il cosiddetto volo folle. Sì, il volo folle è la manovra probabilmente del solista più amata dagli appassionati. Io ho avuto la fortuna di essere passeggero alcune volte durante le addestramenti a rivolto e devo dire che è una manovra che a me anche ha spaventato il passeggero perché l'alumano vibra in un modo incredibile e il solista devo dire che con la sua bravura riesce sempre ad effettuare una manovra che emoziona tutti. Maggiore, ma chi è il pilota della pattuglia arrobatica? Il pilota della pattuglia arrobatica è un pilota che nasce nei gruppi volo caccia italiani e fa la sua esperienza tant'è che per entrare in pattuglia sono richieste comunque dei livelli in termini di numeri di ore e comunque abilità conseguite tali per cui poi si può fare richiesta di partecipare appunto al concorso interno per diventare pilota dei frecci di volo visto l'aspetto burocratico invece l'aspetto proprio anche interno l'aspetto interno diciamo che si cerca un pilota innanzitutto bravo e portato per il volo in formazione perché diciamo l'attività principale che si andrà a svolgere è quella in più si cerca un pilota che sia in grado di entrare a far parte della formazione di collaborare con gli altri quindi si cerca sicuramente una personalità volta alla collaborazione volta al sostegno al supporto di certo non vanno bene caratteri diciamo forti dove magari è quel volo il volo il volo è il nostro solista come vedete qui l'aeroplano addirittura smette in alcuni momenti emettere fumo proprio perché le sollecitazioni sono tali da mandare anche un attimo il sistema fumi in avarica è incredibile vederlo qui va su con il minimo dell'energia disponibile la sensazione stando dentro è quello di essere attrappati all'aria sembra di arrampicarsi quasi nell'aria una sensazione molto molto bella diceva Maggiore che siamo quasi nella parte finale che non occorre avere un carattere forte sì non occorre avere un carattere forte perché un carattere forte potrebbe facilmente portarsi allo scontro con un altro carattere e quindi quello che si vuole in realtà qui è trovare delle persone che caldericarsi di un problema si siedano e cercano insieme agli altri di capire da dove scatoesce il problema e come risolverlo nel miglior modo possibile devo dire che questa è una caratteristica che hanno la gran parte dei piloti dell'aeronautica militare tutti direi ovviamente c'è chi è più spiccato per un lavoro di squadra rispetto a l'anno ci stiamo preparando maggiore per la lona e l'inserimento del suo lista grazie a tutti grazie a tutti